E dopo mesi e mesi e mesi di assenza di mappe meravigliose su Roblox Finalmente ne abbiamo trovato una bella quanto Trilence e Bloxburg Abbiamo trovato Ristorante Taekun Un Taekun fantastico dove si potrà fare un ristorante super mega meraviglioso E sarà un qualcosa di fantastico E ragazzi come va? Io sono Feri Niki E io sono Steffa che si chiama Roblox E oggi siamo qui sul Ristorante Taekun Una nuovissima mappa appena uscita in cui dovremo creare e gestire il nostro super ristorante Esattamente, costa 25 Robux come Trilence e come Bloxburg Quindi è matematicamente meravigliosa Io ragiono così, quando costa Robux è sempre bella Infatti è tra le più votate a livello di likes Sembra davvero fantastica E per prima cosa dobbiamo decidere che tipo di cucina avere nel nostro ristorante Abbiamo cucina americana, cucina italiana, cucina cinese, messicana, inglese, giapponese, credo israeliana Aspetta, indiana, indiana, indiana Indiana e greca È greca Ok, ok Mamma mia l'indiana ha fatto il fail della vita Allora, io ho una scelta molto semplice Anche io Pizza Punto Proprio, non dico neanche cucina italiana Pizza Giapponese, giapponese perché amo la cucina giapponese E siccome tu scegli quella italiana mi sembra giusto variare un pochettino Per vedere se saranno anche diversi ristoranti Secondo me sì, secondo me sì Allora, scegli Ah, posso scegliere anche l'estetica Oh, mamma mia, aspetta Ok, allora Non me l'hai detto quello che sembra una barca, quello No, è troppo bello Mamma mia Ma perché ho lo chef italiano anche io? Ciao, Chef Luigi Allora, il tuo ristorante è vuoto Grazie Grazie Lo sapevo, sei gentile Però lo sapevo già Allora, con Soilini vediamo al volo cosa ci dice E iniziamo ad agire Perché qua a me di stare a sentire Chef Luigi non mi piace molto Sinceramente siamo esperti nei tycoon e ce la caviamo da soli Piazziamo il nostro primo tavolo Ok, allora ne voglio come minimo altri due Ok Quanto mi costano comunque? Ah no, ne ho soltanto un altro Ok Ok, mi sembra giusto Mi sembra giusto Queste sedie Siamo seri? Ho soltanto Mamma mia che brutte Che belle Bellissime Sono proprio brutte Allora Questo da tre posti per una famiglia Padre, madre e figlioletto E poi uno per una coppia Quindi ragazzo e ragazza Facciamo così Io li ho fatti tutti da quattro Con le tanti clienti Esatto Oh mamma mia Guarda che brutta la cucina Arrugginita? Ok che di bassa qualità Perché stiamo iniziando Ma dico io non me la dare arrugginita Mamma mia Ok, ho fatto tutto quello che dovevo Possiamo aprire? Sei sicuro Chef Luigi? Secondo me non siamo ancora pronti Abbiamo una cucina arrugginita Dei tavolini con delle sedie Che sono da soggiorno Per quanto mi riguarda Non sono da cucina Hai notato che le sedie Sono più grandi dei tavoli? Esatto Cosa è assurda? Cosa è assurda? Però Chef Luigi dice che siamo pronti Quindi Ok Andiamo Andiamo Dai vabbè Vabbè Io mi fido Poi vediamo Clicchiamo la barra di restaurant E apriamo Ok Buongiorno clienti Vedi Un tavolo per tre L'avevo predetto L'avevo predetto Ne ero sicura Ma davvero? E indovina un po' Gli altri che sono arrivati Tavolo per due Sono perfetto nel marketing L'avevi previsto Allora Posso avere una pizza al formaggio? Sì Certamente Puoi averla Però non so La devo cucinare io? Ok Hai capito? Ok Sì Sì Devi Ma vabbè Difficilissimo Devi premere i tasti che ti dice Per cercare di cucinare Esatto Allora Ok Sinistra destra Spacebar Sopra Ok Fate tutte A questo punto Immagino che ne seleziono una E la porto Buongiorno pizza Forse gliela devi appoggiare di fronte? Sì Però sto cliccando Non gli sembra giusto È un po' strano Allora Perché dice Porta la Ah Devo cliccare a lui Perché mi diceva Porta la pizza alla persona che la desidera Alla persona corretta Alla persona corretta Però tutti vogliono la stessa cosa Quindi non è difficile sbagliare Ok Perfetto Guardali come mangiano Guardali Vuole un'insalata Ok Preso Preso come ordini Andiamo qua E ricuciniamo Quindi prontissimi Destra Giù Sopra Sotto Sotto E la prima è fatta Destra Sopra Sotto Destra E abbiamo fatto Ok Quindi la pizza era per la signorina Buongiorno signorina Tenga la sua pizza E invece guarda l'insalata Che buona Che buona l'insalata È proprio come la mangio io Sembra buona Sembra buona Allora guardi signore È la nostra prima insalata di sempre Tenga Si deve sentire onorato Però vogliono anche il dolce Eh mi sembra giusto Dai evidentemente la pizza gli è piaciuta Quindi vogliono provare anche il dolce Esatto Quindi due gelati per voi Spacebar Spacebar Sopra Spacebar Fate un gelato Forse è così semplice Però mi piace questa cosa Però è bello È bello È divertente Divertente Se mi piace che puoi interagire davvero con tutto Cosa c'è? Eh questo gelato Fer è un po' banale Guarda che bellina l'immaginetta E guarda quello che gli sto offrendo Ovviamente hai appena aperto Quindi sai fare giusto le cose base Eh lo so Però lo sai che io comunque Ci tengo alla pizza Ma anche al dolce Quindi vorrei migliorare un pochettino La qualità dei miei dolci Perché altrimenti i clienti si possono arrabbiare Soprattutto se mi capita una come te Fer Che si tiene tanto i dolci Soprattutto i gelati In questo periodo Dato che fa caldo Soprattutto Eh addirittura Quindi la pizza veggie E poi gli spaghetti con le polpette Allora Sta cosa degli spaghetti con le polpette Nella cucina italiana Non mi sembra così giusta Perché noi non li facciamo così Esatto Si sta confondendo Non è che pensi che è pasta E noi facciamo tutta la pasta È solo quella buona Ai 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 Dai impegnati Però vabbè Facciamocela andare bene Per ricordare i miei primi soldi I miei primi soldi 31 dollari Vorrei un gelato anche io No Fer Mi sono seduta Perché non mi fai sedere Voglio qua un gelato Perché tu non hai soldi Io so riconoscere chi ha soldi Ho sentito odore di gelato E mi sono subito fiondata Nel tuo ristorante Non hai soldi Quindi non ti do nulla Vai via Allora Stanno arrivando nuovi clienti Un tavolo per tre No vabbè Comunque sono un genio Ho fatto i tavoli perfetti Allora Sparechiamo qua Volete altro Volete un dessert Un caffè Qualcosina Ditemi voi Altrimenti ve ne potete anche andare Ok Un gelato per lei signorina Va bene Glielo preparo Immediatamente E non è per te Fer Mi spiace Quindi Mi metto qua Non provare a rubarla adesso Cerco di rubarla Cerco di rubarla Guarda Non c'è più Fer Dammi È per lei Non è per te Allora Guarda qua Un tavolo per tre E solo uno sta ordinando Ma ti sembra? Eh magari Se quando vengono i posti Magari ordina solo uno Gli altri non hanno fame In quel momento No da me devono mangiare tutti Non mi sembra giusta sta cosa Allora buttiamoli fuori Vattene Fer Allora in questo ristorante Mi metto sul tavolo E ve lo dico Se non ordinate Ve ne andate via Perché guardate Ora la prendo a pugni La fila che c'è fuori Quindi noi dobbiamo servire Tutti i clienti E se non ordinate Dovete andare via Assolutamente Con tutte le persone Che vorrebbero entrare nel ristorante Due che non mangiano Sono troppo assurdi Però dai Almeno sono simpatici Hanno la faccia allegra Quindi mi sta bene Avere le persone allegre Guarda come sto migliorando Ho un 1.7 di voto di stelline Ah sì 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 Che non è male per nulla Anche il menu varia di 2.5 Infatti ho notato Che faccio Tante pietanze diverse È molto buono E poi guardate che bellino La boutique di Steph Bellino Sì sì Nome fantastico Allora torniamo dentro Mi piace Anche perché te l'ho detto Proprio questo edificio Sa tantissimo Di ristoranti in italiano È vero è vero Ci sta davvero davvero bene Allora signori Volete altro Tu un dessert E tu un dessert Quindi prendo ordine Prendo ordine E faccio subito Questi due gelatini Sono un po' triste Che non lo vogliono tutti Ma sono d'accordo Perché non mi sembra Molto buono Voglio chiudere il ristorante Ok Allora quindi Chiudi Così non vengono più Perché voglio andare A fare shopping All'Ikea Esattamente Però sì Anch'io l'ho visto È davvero gigante Pensi che possiamo Comprare le cose nuove Per il nostro ristorante Eh lo spero Speriamo Vediamo già qui Guarda Qui potrei cambiare Oh Posso cambiare Il colore del pavimento Posso cambiare L'estetica del ristorante Ma qua posso Di tour Scegliere nuove pietanze O ci sono a caso No perché La ragosta Servita così È bellissima È bellissima Guarda i colori Che belli Però costano dieci gemmine Non so come le guadagniamo Ma scusa Abbiamo già pagato 25 i robux Ci vuoi far sciopare di nuovo? Ma non sono robux Sono gemmine Quindi secondo me Le guadagni Mamano che giochi Capito? Speriamo Speriamo Vabbè andiamo dentro A vedere se c'è qualche Pezzo di arredamento Qualche tavolino Qualcosa di simpatico Allora Buongiorno Guarda già Queste sedie Sono un po' più belle Eh sì Soprattutto qua Queste qua rosse Sono perfette Per il ristorante italiano Sì Totalmente Posso comprarla? 15 dollari Allora che colore? Rosso? No rossa Ristorante italiano rosso Sicuro 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 Allora ne voglio Una Due Dai facciamo che tengo rosse Le due del Del tavolino Quello da copietta Ok Invece le altre per ora Le tengo in quel modo Sì piano piano Anche perché non hai troppissimi Guarda che belli Questo qua è rotondo A me piacciono troppo i tavoli rotondi Non so perché È una cosa che mi piace un sacco Guarda ho trovato quello per il mio ristorante È vero Questo è giapponese tutta la vita Dai Anche no Forse è un po' più cinese È un po' più cinese Esatto è quello che ti stavo per dire Ok fare Ho comprato la bandiera italiana Ma come la devi appendere Sì 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 Guarda le cucine Altro che quella rugginita Che abbiamo noi Che belle Uh ma queste cucine Quanto costa? Sono fantastiche 50 Non è troppo Oh dai ma i prezzi sono sobri È 75 Prendi quella da 50 Dai Eh ho 37 E allora hai speso tutto Sì seguimi seguimi Andiamo ad arredare Ok Andiamo ad arredare Aspetta che forse una piantina mi piacerebbe molto Ti devo dire una cosa Ma anche questo Dimmi Fere C'è anche il piano di sopra Lo so Quindi non abbiamo minimamente finito Lo so Fere Però Di fare shopping Non ho soldi Quindi non voglio rosicare Quindi torniamo un attimino a casa Ok Qua nella cucina secondo me Eh sì la bandiera nella cucina Così Sì 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 Ok Poi l'orologio da questa parte Guarda che Guarda che bellino Eh no dai L'orologio pizza No che bello Lo voglio anch'io Che se non c'entra nulla Lo voglio anch'io È fantastico E poi Questo secondo me Può essere bellino qua Per coprire per adesso Un pochino la cucina brutta Sembra giusto Ok tu entri E hai il benvenuto così Che è bellino E copri un po' la cucina Neanche la noti Che dici Eh con questo tavolo Così così Però sono molto più belline Sì 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 Anche se vedi Questo tavolo è davvero troppo grande Ci voleva forse davvero Quello tondo Quello bellino Ho capito che hai visto prima Sì però Ci sarebbe stato meglio Tanto per ora non ho i soldi No certo certo Quindi comunque Devo farmelo andar bene Allora io volevo vedere Ho notato che su workers Puoi prendere delle persone Sia a cucinare E puoi scegliere anche la nazionalità E anche se è maschio o femmina Addirittura tutte queste cose Sì e dopodiché credo anche Il cameriere O qualcosa del genere Sì però Quindi il tipo di lavoro Che deve fare Sinceramente Per ora ci sono pochi clienti Posso permettermi di gestire tutto Io non ha senso avere delle spese È il momento di andare nel tuo ristorante Sì io ancora non ho fatto nulla Quindi sono strappuriosa Voglio vedere la cucina giapponese Ora sono a fianco a te Ovviamente con il ristorantino giapponese Mi devi aiutare a scegliere un nome Allora Prima di tutto è bellissimo Nel frattempo tu scegli il nome Esteticamente è fantastico Allora quindi devo scegliere un nome Perfetto di Niki Me ne è venuto in mente Pace e natura Sai perché? Perché ci metti un sacco di bonsai dentro E la fai super natural Ti piace? Non mi piace il nome Però mi piace l'idea Mi piace l'idea Allora Consolini Un nome che appunto Ha a che fare con questa cosa Nel prossimo video Sì 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 Le lo facciamo mettere Allora Ho un tavolo da quattro Finalmente Questi sono degli sportivi Una squadra di qualche sport Una squadra da quattro Che sport potrebbe essere? Non ne ho più palli di idea Vuole l'avocado sushi roll Io devo andare a cucinare Perché se no qua Mi fai fallire il ristorante Vai Fede Quindi scusa un attimo Che poi questi Gli avocado sushi roll Io li prendo sempre Dal giapponese Sono quelli che io prendo di più E quindi mi piacciono troppo Lo so Lo so Guarda probabilmente Ve li mangio io Non te li do a te Guarda Così cliente Me li posso prendere io? No? Vabbè grazie Guarda Ora si ragiona Oh i pork Oh mio dio che fame Il ramen Allora Vedi le mie minacce Le mie minacce hanno funzionato Come sempre Cos'è l'ultimo? Sono tipo delle chicken Chewars Che stai dicendo? Tipo cosolette di Non lo so Non lo so Allora devi smetterla Di importunare i miei clienti Io te lo dico Guarda come sto cucinando E tu che stai importunando tutti Ma sono troppo carine ste cose Ma posso prendere tutto? Ah no una alla volta Sono troppo carine Allora questo a te No mi stanno facendo venire Una fame incredibile Sono super felici Mangiando le cose giapponese Ho una fame assurda Che buone Però fare c'è un problema Dimmi Al giapponese non fanno buoni dolci È vero Cioè perlomeno in quello dove ordine Amo noi non fanno mai buoni No 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 Però secondo me c'è qualche dolce buono giapponese Adesso lo scopriamo nel caso Adesso lo scopriamo E poi ci lamentiamo Che non ci fanno i dolci buoni Oh teno che sei il sashimi Oh mamma mia Fantastico Pensaci tu che io sono impegnatissima a cucinare Dovevo fare un sacco di cose Controlla i clienti E questi hanno appena finito di mangiare Quindi vorrebbero i piatti sistemati e puliti Quindi appena puoi È un attimo Vieni un attimo a cliccarli Così mentre ti ordinano altro Ma aspetta ci sono loro Contando quanto hanno mangiato Il fatto che erano in 4 38 dollari non è molto Infatti ti hanno pagato Sesso tanto quelli che erano in 3 Magari ho un ristorante Che ha prezzi abbastanza Stanno già arrivando altri 4 Condoglianze Chiuso Però aspetta Alla felpina di youtube E quindi è uno youtuber E l'altro sembra di naruto E l'akatsuki Guarda che sembra tantissimo quello Fantastico Comunque dai Io direi che ci possiamo fermare così Ovviamente Commenti E sondaggio Per farci sapere se lo volete rivedere Anche se lo dico già Sinceramente noi ci registriamo Il secondo adesso Perché lo voglio giocare Sì sì è troppo bello È troppo bello Ma è che vada a cancelliamo il video Però voglio registrare ancora Perché è troppo divertente Quindi speriamo che questo video Vi sia piaciuto Speriamo che questa mappa Vi sia piaciuta Nel caso ho tanti like Commenti e sondaggio E ci fermiamo così Perché se vi è scelto Sceglieteci un like E se la prima volta che ho veduto Il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao